No raga, io qualche volta ci resto secco, per fare gli indici di schierabilità veramente ci resterò secco prima o poi Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special, siamo con i consigli di giornata, si riprende dopo questa pausa nazionale e andremo adesso a rischiare le nostre formazioni per questo rush finale, vi ricordo che c'è anche la nostra lega pubblica con il mercato aperto su Fanta Master, mi raccomando potete anche iscrivervi, vi ho spiegato in un video precedente, quindi andate a recuperare il video proprio sulla lega pubblica dove vi ho spiegato come anche iscrivervi se non siete ancora iscritti nella nostra lega su Fanta Master, va bene? Vi ricordo anche che oggi è il primo d'aprile, ora non vi farò alcuno scherzo, ma vi voglio almeno innanzitutto ringraziare tutti coloro che stanno sopportando il canale, il progetto su tipi però come vedete il numero di t per sé è calato, perché? Perché ovviamente i 32 sono quelli che l'hanno fatto in modo ricorrente, quindi per mese quindi infatti sono anche riabbassati le percentuali degli obiettivi, che ho modificato ragazzi, perché? perché oltre al primo step, come vedete al 49% c'è il secondo obiettivo che ho inserito è la grafica a campioncini per il sito web infatti ho intenzione di migliorare la qualità grafica del sito grazie anche al vostro sostegno perché ovviamente pagare un grafico richiede un po' un'uscita e forse non riuscirei da solo a potermelo permettere per il sito in più però ho messo anche un obiettivo per quanto riguarda la potenza del sito, cioè quanti utenti contemporaneamente possono utilizzare la nostra piattaforma che stiamo diciamo preparando tra il proposito di preparativi c'è un file excel che verrà rilasciato a breve adesso ad aprile e che è un file bomba, lo stiamo perfezionando, vi assicuro che vi aiuterà a migliorare al fantacalcio ultima cosa che vi devo dire come annuncio è che si sono ovviamente sbloccate le ricompense vedete il livello Dennis adesso è di nuovo cliccabile e ne ho messe per questo mese 6 sono solo 5 adesso a disposizione perché già uno è stato prenotato quindi se volete un completino a vostra scelta, una maglia a vostra scelta volete anche supportare il canale potete fare un connubio tra le due cose ci penso io a spedirvelo personalmente quindi potete farlo tramite il livello Dennis ho dovuto mettere anche un limite a livello Frey ok perché il discorso della scelta dell'argomento video purtroppo non è che posso fare 200.000 video a richiesta al mese quindi ho dovuto mettere un limite anche a quello va bene adesso ovviamente chi ha vinto la maglia di Ciccio Caputo la maglia di Ciccio Caputo l'ha vinta Egon ragazzi perché io vi ricordo che uno dei tippers si porta a casa uno qualsiasi, un livello qualsiasi, si porta a casa la maglia di Ciccio Caputo in realtà Egon aveva anche più chance perché essendo livello Ciccio Lodi aveva un doppio ticket ok così come tutti quelli da Ciccio Lodi a salire avevano una possibilità magari maggiore effettivamente se l'è portata a casa Egon quindi complimenti ti arriverà la maglia di Ciccio Caputo a casa adesso bando alle ciance ho perso fin troppo tempo e il video tra l'altro durerà un casino lo so andiamo a vedere l'analisi di questa giornata vediamo se riesco a mostrarvi immediatamente il file perfetto siamo all'interno dell'analisi per gli arbitri ora questa giornata qualcosa di interessante c'è perché c'è Giacomelli il nostro top player con 0.64 per quanto riguarda i calci di rigore poi c'è Massa che è un altro arbitro che ammonisce tanto e dà anche abbastanza calci di rigore poi abbiamo vabbè dove eri nulla anche Manganiello sono abbastanza tranquilli quest'anno Maresca attenzione alle ammonizioni 5.90 occhio Maresca in Genoa Fiorentina mentre Giacomelli è in Bologna Inter Luca con un rigore quasi scontato attenzione a Benevento Parma potrebbe esserci un calcio di rigore anche lì poi Di Martino io ho messo la cartellina perché c'è una media del 6 nonostante abbia fatto solo tre partite quest'anno quindi è un po' particolare anche lui Pairetto in Sassuolo-Roma attenzione a qui anche i rigori anche alle decisioni un po' particolari stesso discorso nel derby Toror Juve che tra l'altro è una partita molto animata l'hanno data a Fabri che ha 5 di ammonizione a partita quindi attenzione anche lì andiamo con l'analisi per la singola partita e si inizia con Milan-Savedoria tra l'altro alle 12.30 quindi la live questo weekend sarà domani sera venerdì sera non so se riuscirò nel tarda diciamo tarda serata riuscirò a fare una piccola live forse sulla piattaforma Viola ma di sicuro sabato mattina alle 11.30 saremo prima un po' su YouTube e poi su Carmi Special TV ok? sulla piattaforma Viola a tal proposito voglio ringraziare tutti coloro che sono sab e vi annuncio vi spoilerò già che nel mese di aprile ok a fine aprile andrò a selezionare uno dei diciamo dei sab per dargli un'altra maglia di gioccio caputo quindi un'altra sarà dedicata a chi è abbonato al Carmi Special TV o alla piattaforma Viola comunque 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 Milan-Savedoria pronostico 2-0 sarà così? non lo so arbitro piccinini non ha caratteristiche particolari per quanto riguarda come vedete anche già i colori vi fanno capire che sono propenso più per la squadra di casa e che sono un po' tutti schierabili a parte Benazer scommestino a Starly Makers infatti l'ho inserita qua nonostante non sia magari uno dei più schierabili e da lot l'ho messo un po' più basso perché è un giocatore del quale magari mi fido di meno nel senso che la caratteristica rischio è un po' più alta della Sampdoria è difficile consigliarvi qualcuno ho abbassato molto gli indici forse che andrebbe quello più schierabile perché comunque lo mettete in Dandelè che anche come quarto slot magari vi porta a casa un buon voto e comunque si è comportato spesso bene con bonus in termini di assist e goal abbastanza numerosi per quanto riguarda eventuali subentranti Leao è quello che potrebbe magari far di più però non so appunto né la condizione fisica né quanti minuti potrà avere a disposizione poi comunque la formazione ufficiale la saprete la sapremo in live ok sabato mattina quindi ci vediamo poi in live per commentarla anche ok passiamo al secondo match Atalanta-Udinese situazione molto simile solo che qui magari la partita potrebbe essere anche un po' più bloccata per quanto riguarda l'Udinese nel senso che non è una squadra che segna tanti gol il mio pronostico anche qui è 2-0 proprio per farvi capire che super giù l'analisi è molto simile schiererei quasi tutti i giocatori della Dea mi aspetto cose positive magari non per forza una goleata perché la difesa dell'Udinese è abbastanza solida di solito mi intrigano come scommessina sia Passina e Pasalic che potrebbe magari subentrare ma c'era anche un Freuler che mi intrigava lui e Mele secondo me qualcosina potrebbero fare sorprendere un po' che fanno gli allenatori però alla fine ho inserito Pessina e Pasalic come scommessina occhio anche sui bentranti oltre che Pasalic ci sono anche i Ligici e Malinoski che qualcosa potrebbero fare occhio in questo finale di stagione Malinoski già l'anno scorso ci ha regalato diverse gioie nel finale arbitro Manganiello che è questo nome che si sta comportando abbastanza bene Benevento Parma partita qui molto vivace potrebbero esserci anche diversi cartellini visto che c'è massa infatti sono stato molto basso con i difensori ok perché mi aspetto una partita magari molto vivace tra l'altro sfida per la salvezza ok quindi ci sono in palio punti importanti i più schierabili sono Viola e Cusca che non a caso sono i rigoristi proprio anche per questo gli altri forse sono gli attaccanti Gervinio Caprari ma soprattutto Gaic che ho messo anche nelle scommestine insieme a Viola erano quelli che mi ispiravano di più ok mi ispiravano più loro ok passiamo direttamente avanti attenzione ai portieri e ai difensori ragazzi se potete magari evitateli poi magari subiscono pochi gol io ho messo pronostico 2 a 1 ma potrebbe rovescerci magari più gol poi andiamo a Cagliari Verona qui forse ecco qui magari la partita può venire un po' più bloccata se notiamo anche i colori del Cagliari mi sono mantenuto sul diciamo sul giallo ok barra arancione che è il colore di quei giocatori che vanno schierati in mancanza di alternative migliori ok magari leghe numerose oppure come ultimi slot tipo un angolano un ultimo slot non è male ok anche un giopetro in alcune leghe in terzo slot magari ci può stare dall'altra parte invece abbiamo un po' più scelte faraoni barack e zaccagni secondo me sono molto molto schierabili potrebbero anche portare un bonus le scommessine ho messo lasagna e Pereiro che è in banchina ma io ho dato un 74 di indice schierabilità perché l'ho visto in forma ma non tanto solo nell'ultimo quando ho portato bonus ma anche precedentemente non so se era partita contro non so se era spezzo o qualche altra sfida l'avevo comunque visto un po' in forma e non a caso poi ho portato il bonus attenzione che magari in questo finale potrebbe regalare qualche gioia a quei pochi fantallenatori che ce l'hanno in rosa attenzione anche a Lazovic e attenzione al ballottaggio con Di Marco ma soprattutto con la difesa perché il ballottaggio serrato è con Magnani Magnani Di Marco non si è capito io comunque a Di Marco gli ho messo un buon 79 non ho esagerato perché appunto c'è questo ballottaggio ma comunque potrebbe essere benissimo messo in campo squalificato Davidoviz è arbitro Doveri che anche lui è abbastanza tranquillo di solito andiamo con Genoa Fiorentina qui avevo un po' difficoltà per fare un pronostico ho messo anche qui un 1-1 perché non mi aspetto tantissimi gol l'arbitro però è Maresca che è pericoloso in termini di cartellino sappiamo Maresca se sei sempre tu se sei sempre tu Maresca come direbbe Conde Conde Antonio Conde per quanto riguarda alcune scelte infatti ho abbastato un po' i difensori perché nonostante io mi aspetti pochi gol però potrebbero esserci tanti cartellini allora ho passato un pochettino gli indici dei difensori e dei giocatori un po' più ruvidi vedi appunto Badeli e Pulgar ok per questo le scommestine ho messo Ribéry e Zaic Ribéry perché potrebbe magari conquistarsi un calcio di rigore oppure far ammonire magari gli avversari appunto e quindi alzarsi il suo voto magari se avete un modificatore d'attacco potete anche utilizzarlo Zaic perché magari su punizione potrebbe magari essere insidioso ma era difficile trovare qualche scommestina che mi intrigava ci potevo mettere magari Castrovilli Buonaventura ma non era non era proprio semplice ok passiamo a questo punto altrove e andiamo con Lazio Spezia a proposito ragazzi vi ricordo che questo file sarà disponibile a tutti i tippers su su tipi appunto nella sezione news per il livello cicciolodi a salire sarà anche disponibile con l'ultimo foglio dove si può inserire anche la propria rosa per capire anche quali sono i nostri giocatori con l'indice schierabilità più alto è un vantaggio in più che ho messo per chi supporta maggiormente il canale poi Lazio Spezia ragazzi abbiamo una sfida secondo me un po' a senso unico ho messo un 3 a 1 perché comunque la Lazio qualcosina magari ogni tanto la concede quindi magari ci potrebbe anche scappare il gol dello Spezia però secondo me i vari immobile soprattutto Milinkovic e Correa potrebbero essere ottime scelte attenzione a Luisa Alberto gli ho messo un 88 nonostante sia in pagina perché è un po' acciaccato in teoria l'indice è un po' fittizio non ha molto senso perché se effettivamente è acciaccato e non sta bene potrebbe magari non far chissà cosa ma dovesse invece riprendersi in questi due giorni ok da qui a sabato magari potrà giocare addirittura anche titolare e essere diciamo uno dei giocatori più pericolosi per questo al momento gli ho messo comunque un indice molto alto soprattutto dipende come siete messi nella vostra formazione schieratelo comunque è difficile dare fiducia a qualcuno dello Spezia maggiore magari ha fatto bene con la nazionale e forse appunto attenzione al discorso onzolare ragazzi perché io ho utilizzato le formazioni di SOS ad esempio e lo davano in panchina altre redazioni lo danno titolare insomma non si capita bene la situazione quindi io non me la sono sentita di dargli un indice alto anche perché la partita non era proprio semplice ok scommessina anche oltre a che correa anche Lazzari potrebbe magari inventarsi qualcosa Napoli Crotone Napoli Crotone anche qui partita a stesunio ho messo addirittura 4 gol per il Napoli 4-1 mi aspetto tanti tanti bonus è il momento di fare ma ve l'ho detto abbiamo fatto l'analisi del calendario qualche giorno fa andatevi a recuperare tutti i video precedenti vi ho detto anche per reparto quali giocatori magari puntare e quali squadre avranno un calendario agevole abbiamo subito Napoli Crotone mi aspetto subito un Napoli arrembante con diverse che vuole prendersi il posto in Champions attenzione quindi Zelischi Politano Insigne secondo me non sono proprio da lasciare fuori sono da schierare Osimane potrebbe essere una bella scommessa infatti l'ho messo nelle scommessine insieme a Fabian Ruiz non so perché mi intrigava non ha fatto anche questa stagione lui sa che in questa partita non si inventi qualcosa Mertens e Lozano schierabili anche loro Mertens un po' di più perché comunque già ha avuto un po' più minuti nelle gambe ma ha portato diversi bonus però magari dovesse partire in panchina potrebbe magari avere meno minuti a disposizione ma comunque può avere buone chance per portare il bonus la difesa attenzione perché la difesa del Napoli come vedete non è proprio verde sia perché comunque il Crotone dal punto di vista offensivo un po' di insidie le crea attenzione anche a Onas che è un ex ma perché c'è Di Martino come arbitro che è uno che ammonisce tanto quindi i giocatori forse appunto più ruvidi come anche i difensori potrebbero quindi prendersi l'ammunizione quindi state un po' attenti squalificati Coulibaly e Petriccione direi che possiamo passare avanti perché sul Crotone come detto non mi soffermerai più di tanto solo qualche scommessina si può fare magari in tre parti offensivi ma meglio andare su altro poi Sassuolo Roma sfida interessante tra due squadre molto offensive ma il Sassuolo ha tante incognite lì davanti perché ci sono caputo Berardi entrambi acciaccati che ha avuto forse più chance di giocare l'ho messo lì tra i possibili subentranti e con indice 75 che è anche qui un po' fittizio perché magari se sta effettivamente bene potrebbe non dico giocare titolare però comunque far qualcosa ma in realtà potrebbe anche essere preservato quindi potreste anche andare su altro dipende che alternative avete quello più schierabile forse del Sassuolo è Diuricic ma perché perché essendoci Pairetto potrebbe esserci un calcio di rigore e a volte quando in campo l'ha tirato punto Diuricic in altri contesti forse perché non era in campo lui ci ha pensato o Locatelli o De Frelle attenzione anche a De Frelle gli ho dato un indice comunque 76 gli altri il reparto difensivo del Sassuolo personalmente eviterei ragazzi anche perché dalla Roma mi aspetto buone cose a livello offensivo infatti il pronostico ho messo 3 a 1 Petro e Del Sharawi le scommessine in realtà la scommessina a procedere di Del Sharawi ero indeciso chi mettere lo mettere magari Pellegrini volevo mettere anche Karsdorp alla fine ho messo appunto Del Sharawi che potrebbe essere schierato magari da tanti fan di allenatori il dubbio Zeko Maioral lo potrete forse risolvere sabato magari avrete indicazioni anche in base alle conferenze stampa al momento su SOS davano Zeko io ho messo quindi un 84 un 77 a Maioral che comunque non è basso 83 che è dato in panchina perché ha ciaccato in alcune redazioni altre lo danno titolare io comunque lo schiererei se siete coperti a livello di regolamento e appunto di panchina ok perché comunque essendoci Pairet un calcio di rigore può scappare e magari lo calcia lui quanto in campo ok altrimenti lo potrebbe calciare Pellegrini infatti io ho pompato l'indice l'ho messa 86 Torino Juventus sfida nella quale vedo favorita la Juventus soprattutto perché viene dalla Batossa con il Benevento ok sarà una guerra come sempre infatti è vero che ho messo degli indici bassi al Torino ma non tanto per le prestazioni più che altro per i cartellini c'è anche Fabri che è uno che il cartellino comunque lo esce lo estrae quindi starei un po' attento Belotti gli ho messo un buono 81 non di più perché in teoria si può mettere anche più di 81 a Belotti perché comunque a livello fisico non mi è sembrato proprio informissimo ancora e in più affronta comunque verrà marcato da Delict probabilmente sarà una bella battaglia 81 non è basso è comunque un bonus probabile però secondo me la Juventus cercherà a tutti i costi di portarsi a casa sta vittoria nel derby indici molto alti per Quadrato che è già in passato uomo derby per Chiesa sempre tra i migliori della Juventus e basta a Morata come vedete gli ho lasciato 80 l'ho lasciato anche più basso di Belotti perché Belotti è almeno rigorista quindi almeno c'è quell'aspetto Di Bala 75 Kuloseski 79 sono i più interessanti magari tra i subentranti anche se Kuloseski alcune redazioni lo danno titolare magari ne sapremo di più sabato però sono schierabili in leghe numerose anche come ultimo slot magari un Kuloseski come quarto slot in leghe già 8-10 va benissimo anzi potrebbe dovesse giocare poi titolare sarebbe un buon una buona arma passiamo all'ultimo match all'ultima sfida e abbiamo Bologna Inter anche qui la vedo un po' sbilanciata come sfida anche di più del derby ma la vedo un po' come Lazio Spezia per dire ok e quindi sono andato un po' su tutti i giocatori dell'Inter alcuni un po' di più alcuni un po' meno indici altissimi ovviamente per Lukaku e Lautaro Lukaku potrebbe anche tirare un tiro al discreto visto che c'è Giacomelli Akimi e Barella potrebbero essere i protagonisti negli altri ruoli tra le scommessine ho messo Sanchez e Bastoni Bastoni magari su pallina attiva Sanchez da subentrato potrebbe magari fare qualcosa di buono del Bologna ho messo un 81 a Soriano ero in difficoltà su che indice mettergli a lui di solito gli mettono intorno ai 90 88 sta giornata sono andato più basso perché l'Inter sta facendo la marcia finale la rush finale verso lo scudetto quindi non penso che vorrà perdere questa match però magari un gol subito ci può scappare tra l'altro Bologna ogni tanto ha insidiato l'Inter di questi tempi Orsolini è in forte pallottaggio SOS da Vasco Volsen come titolare non lo so ragazzi chi giocherà però io ho dato un indice più alto a Orsolini piuttosto che a Scovolsen tra l'altro Orsolini lo stavo mettendo anche nelle scommessine poi alla fine l'ho tolto per bastoni ok attenzione al reparto difensivo del Bologna inutile che ve lo dica è che mi soffermi più di tanto da evitare quasi tutto Tomiasu in caso di emergenza in leggo numerose ma potreste anche andare su altro ok questa era l'analisi per questa giornata ragazzi come vedete poi nell'ultimo foglio c'è anche la possibilità di mettere la rosa ok vedere i propri indici gli indici dei propri giocatori questo appunto per chi magari su tipi va a sostenere anche con il livello cicciolodi o anche più alto ok ringrazio ancora tutti coloro che supportano il canale questo progetto non perdetevi i prossimi contenuti vabbè domani ci sarà il video sui marcatori ok però usciranno alcuni video su un nuovo file excel al quale sto lavorando insieme a Smilo farò anche un Fanta Cartoon proprio su questo lavoro che stiamo facendo e poi la prossima settimana in caso ve lo mostrerò ok mi raccomando grazie anche a tutti coloro che si sono anche abbonati su Carmi Special TV la piattaforma Viola vi auguro buona fortuna per questa giornata di Fanta Calcio e per questo finale vi ricordo anche il mercato aperto nella Lega su Fanta Masters schierate sempre la formazione perché e iscrivetevi se non siete ancora iscritti perché potete anche vincere il premio del punteggio record ok magari siete indietro in classifica non ci fa nulla ma se fate un punteggio clamoroso il più alto della stagione e vi portate a casa anche lì un completino della nazionale quindi approfittatene va bene mi raccomando dai un saluto a tutti da Carmi Special e che dire buon Fanta Calcio dai un abbraccio grazie a tutti